Il 3 settembre la poesi-pittura sarà protagonista a Roscigno, in provincia di Salerno. La corrente artistica, fondata dalla Sanita Francesca Barone, è al centro del primo concorso internazionale di poesi-pittura a Roscigno-Vecchia. L'appuntamento è coordinato da Lucia Clemente, scrittrice e poetessa, rappresentante del gruppo, che, oltre ad organizzare la manifestazione, è impegnata nella fondazione di un museo della poesi-pittura a Roscigno-Vecchia. Il 3 settembre, intanto, interverranno esponenti della cultura e del mondo dell'arte. Si tratta di artisti provenienti da ogni parte d'Italia. Presenti alla manifestazione, tra gli altri, il sindaco Luca Iannuzzi, lo scrittore Giacinto Iannuzzi, il giornalista scrittore Enzo Landolfi, sarà presente l'artista Francesca Del Frate, che, insieme al professor Saverio Badolato, è impegnata ad espandere la poesi-pittura in Calabria. Diverse sono le iniziative già portate avanti, in terra calabra con una mostra e con il primo convegno internazionale tenutosi lo scorso 3 agosto a Santa Caterina dell'Oionio. Inoltre, la Del Frate ha studiato e realizzato, insieme a Badolato, un dipinto per raffigurare il pensiero della poesi-pittura da inserire nel manifesto. All'appuntamento di Roscigno sarà presente la fondatrice della corrente, la giovanissima artista sanita Francesca Barone. All'appuntamento di Roscigno